Ciao a tutti ragazzi, bentornati in cucina col banana. Oggi vi presento la prima delle ricette che farò, perché non ne farò tutte, di quelle arrivate per il contest. Oggi faccio la pasta con la crema di pistacchi che ha fatto Alfio Privitera, che saluto, insieme a Paolo Silva, Alberto Serenelli e Gigi Poggi. Ciao ragazzi! Il banana, il banana, il banana, il banana, il banana, il banana, eccolo qua! Gli ingredienti, abbiamo le penne dello scalogno, della panna, della granella dei pistacchi di bronte, crema di pistacchi comprata e della pancetta. Tagliamo lo scalogno per cominciare. Poi andiamo a tagliare la pancetta. Tolgo la potenna, perché è molto dura, ok, e andiamo a tagliare la pancetta a cubetti, quindi taglio a metà la fetta, e poi vado così. Abbiamo fatto soffriggere lo scalogno nell'olio per qualche minuto, ora andiamo a mettere la pancetta, l'avevo appoggiata un attimo in uno coltex. Facciamo rosolarla, per bene, facciamo rosolarla, la facciamo rosolare, scusate ragazzi. Abbiamo aggiunto la crema di pistacchio, la facciamo sciogliere. Ok, facciamo ritirare un po', rialziamo il fuoco, facciamo ritirare ben po', e accacciato un po' d'acqua. Nel frattempo abbiamo messo le nostre penne a cuocere. Andiamo ora ad aggiungere un po' di panna, perché sta sfumata così, non sa rabbiaire. Allora, io di panna ne metto poca, mentre invece il nostro caro Valpio ce ne aveva messa ben due bricchi interi. Io ne metto poca, perché non voglio che copra interamente il sapore del pistacchio. A dire la verità, secondo me, piuttosto che la panna ci stava meglio la ricotta di pecora. Però, voglio essere fedele quest'oggi alla ricetta di Alpio, usando solamente la panna. Abbiamo scolato la pasta, abbiamo unito, ok. Ora aggiungiamo un po' di parvigiano, e poi andiamo ad impiattare. Ok ragazzi, abbiamo impiattato, e ora andiamo a mettere un po' di granella che Federica aveva a casa, granella di pistacchi di Bronte. Andiamo a mettere, ok. E andiamo ad assaggiare. Buona Alpio, avevi ragione quando dicevi che dovevi ad assaggiarla. Buonissimo. Anche se secondo me con la ricotta ci avrebbe quello spunto in più, però la rifaremo, non mancherà occasione. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo, e ringrazio anche Alpio. Ciao a tutti ragazzi. Il banana, il banana, il banana, eccolo qua.